Ciao a tutti, grazie di essere qui. Io sono Paola Nosari, mi occupo di mentoring sul denaro e strategia di business. Malgrado questo, nonostante la mia ventennale esperienza in ambito commerciale per diverse aziende, sia nel settore bancario che nella grande distribuzione organizzata, in realtà fino al 2015 non avevo mai fatto un business plan. Nel 2015 mi sono messa in proprio e ho chiesto aiuto a Francesca Marano. Da lì è stato amore a prima vista e mi sono messa a studiare e approfondire fino a farne un servizio che offro ai miei clienti. Oggi voglio dimostrarvi due cose che credo siano importanti. La prima forse sarà un po' scioccante ed è che scrivere un business plan, se siete all'inizio della vostra attività, è innanzitutto una fatica immane e poi è anche un po' utopica, perché spesso la prima versione è un esercizio infarcito di ingenuità. La seconda invece è che, malgrado questo, dovete assolutamente scrivere il business plan e poi dovete tornarci su ogni anno e farci dei ragionamenti. Perché mese dopo mese andrete a costruire un documento ricco di dati che si riveleranno fondamentali. Provo a spiegarmi meglio. Molti pensano che il business plan sia qualcosa di misterioso e ne sono impauriti. Per altri invece, soprattutto ultimamente, è una specie di bacchetta magica, come se anche soltanto scriverlo o inserire una serie di file Excel ben studiati, dei grafici a torta in cinque colori e una previsione finanziaria a tre e a cinque anni, gli garantisse un successo assicurato. Ecco, purtroppo, no, non è così. Se siete qui, probabilmente avete già maturato la consapevolezza necessaria a comprendere che le cose non stanno così. Scrivere il business plan non vi garantisce da capitomboli, da errori o da fallimenti. Nella mia sia personale che professionale esperienza, in una scala che va da 1 a 10, il business plan sta al di sotto del 3 come fattore predittivo del successo di un'iniziativa. Le proiezioni economiche di un progetto appena nato o all'inizio del suo sviluppo sono spesso un puro esercizio immaginativo. Quando apriamo partita IVA abbiamo davanti a noi una serie di incognite troppo grandi per poter prevedere anche solo i ricavi. Figuriamoci se può fare previsioni su tutte le altre variabili. Inoltre generalmente in quella fase siamo tutti tendenzialmente molto ottimisti e io dico, meno male, ci mancherebbe. Se non fossimo ottimisti in quella fase probabilmente non ci imbarcheremmo in questa avventura che secondo me invece è un'avventura bellissima. Però un eccesso di ottimismo ci porta sulla strada rischiosa della mancanza di realismo ed è a questo che dovremmo stare attenti. Davvero attenti perché malgrado tutto quello che vi ho raccontato fino a qui io continuo ad essere così convinta del valore di questo documento da averne fatto uno dei miei servizi di punta. Scrivere il business plan ci costringe a mettere attenzione sulle cose che contano davvero. E provo a raccontarvi quali sono. Innanzitutto un approfondito e critico, soprattutto critico, è il ragionamento sul modello di business, il calcolo del punto di pareggio, il momento in cui il cash flow diventa positivo, sono cose su cui dovete chiarirvi le idee prima di fare degli investimenti. E poi una riflessione, una valutazione su quelli che sono i quattro elementi critici generalmente per tutte le attività. Il primo è la fattibilità, cioè quello che vi serve per capire che cosa venderete, a chi ragionare sulla vostra crescita, capire quanto tempo vi serve, fermandovi soprattutto a cercare di capire che cosa vi può ostacolare. Il secondo elemento critico è il mercato in cui vi muoverete, che non significa soltanto che dovete fare uno studio dei vostri competitor, ovviamente sì anche, però anche l'ambiente normativo, i trend di sviluppo, gli strumenti che sceglierete di usare e i relativi costi. Sono tutte cose vive, in costante cambiamento, ma iniziare a farci dei ragionamenti è prezioso. Il terzo elemento sono le persone, intendendo non solo voi che state avviando il progetto o eventuali vostri collaboratori, ma anche soggetti esterni da cui dipendono servizi critici o risorse fondamentali, il commercialista, il legale, i vostri fornitori. Infine, ultimo, il rischio, inteso come tutto quello che potrebbe andare storto. Fermatevi a ragionarci preventivamente per capire come potreste, dovreste o vorreste reagire nel caso in cui davvero poi qualcosa andasse storco. Le risposte che emergono da queste riflessioni sono fondamentali. Io mi è capitato di lavorare con persone che pensavano di avere in mano l'idea del secolo e poi scoprivano che trovare dei clienti disposti ad acquistare quel servizio e quel prodotto era davvero troppo costoso, magari non economicamente, ma in termini di tempo e di energia. Se avessero fatto il business plan o facendo il business plan, si sarebbero risparmiati anni di dolorosi tentativi e quindi invece facendolo, vi risparmiate questo tempo che potete poi investire nella ricerca di soluzioni alternative, differenti da quelle che avevate immaginato fino a quel momento. A me succede ancora di vedere moltissime persone convinte del fatto che sia sufficiente avere una buona idea e tanta passione per far arrivare i clienti. E troppe persone che in nome dell'entusiasmo nei confronti del loro piano imprenditoriale dimenticano di essere critici e di problematicizzare la loro idea. Essere critici invece è un passaggio essenziale anche per costruire un'esperienza che porti il cliente non solo ad acquistare da voi, ma anche a continuare ad acquistare da voi. E questo fa tantissimo la differenza. Ed è la ragione per cui, malgrado la fatica che vi ho preventivato, vi consiglio di fare il vostro business plan. Dovreste comunque, oltre a farlo la prima volta, tornarci sopra ogni anno per validare le previsioni che avevate fatto all'inizio del vostro ragionamento o nel caso in cui la realtà le abbia smentite, comprendere se i presupposti sono ancora validi. Scoprire nuove linee e servizi da sviluppare e scoprire come creare budget e su cosa ha più senso investirlo nella fase in cui siete in quel momento. Quindi studiate un piano strategico e poi stressatelo, testatelo e mettetelo alla prova. Tornateci sopra e fate le necessarie correzioni. Anche se siete in attività da anni, sì, perché gli ultimi mesi che abbiamo sperimentato e vissuto hanno dimostrato ancora una volta che nulla è scritto nella pietra e qualcosa che funzionava fino all'altro ieri oggi potrebbe non funzionare più e potremmo essere messi nella condizione di dover trovare nuovi modi di farlo funzionare in maniera diversa. Concludo dicendovi che il fondatore di Pinterest ha detto crea quello che vuoi creare e scopri se funziona. Io mi permetto di dirvi fate il business plan perché è lì che capite come far funzionare quello che volete creare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.